Allora, Marolina Castellone, vicepresidente del Senato, per il momento sul castello. Se non vi ricordo male, Caivano è nel suo collegio elettorale, ma lei sapeva che si era arrivata in una situazione così esplosiva? Guardi, dottor Vespa, io ho visto Don Maurizio, credo fosse un anno fa, proprio quando la criminalità organizzata aveva fatto un attentato contro di lui e noi andammo ad incontrarlo. Il tema di Caivano è il tema, a mio avviso, dell'etante Caivano d'Italia, di tutti quei luoghi, quelle periferie in cui ci si sente abbandonati dallo Stato e come lei diceva, quello è il luogo da cui io provengo, ci si sente abbandonati dallo Stato non solo perché non c'è la polizia, non ci sono forze dell'ordine sufficienti, era di oggi l'articolo della stampa che diceva che mancano 30.000 operatori di sicurezza tra polizia e carabinieri, ma ci si sente abbandonati dallo Stato perché non c'è la scuola a tempo pieno, perché non ci sono le palestre nelle scuole, perché non ci sono le menze, perché non ci sono luoghi di aggregazione giovanile, non c'è bellezza, non c'è cultura, anzi, quella bellezza che c'era forse è stata trasformata anche dalla politica in bruttezza, penso al mio territorio, tre chilometri di costa, quella costa oggi è occupata da discariche abusive, da abusivismo edilizio perché la stessa politica ha fatto negli anni e nei decenni affari con l'imprenditoria senza scrupoli e con la malavita organizzata e quindi crescere in un luogo così da un lato ti fa sentire come se la tua vita valesse di meno, ma poi genera nei giovani un malessere che può sfociare in malessere interiore, malessere psicologico, ma poi anche in rabbia, in rabbia in violenza che genera a mio avviso anche questi fenomeni e nell'uso come dicevamo di alcol, di droga, questo deriva tutto da quel malessere interiore in cui le assicuro si cresce se si nasce e si vive in un luogo come quello. Però ieri sera per esempio sono rimasto colpito perché l'insegnante del maggiore delle due bambine che sono state violentate ha tenuto aperto la scuola fino ad agosto, che in Italia è un inedito proprio per non lasciare abbandonato e oggi il ministro dell'istruzione ha annunciato che entro la settimana prossima arriveranno altri 20 insegnanti a Parco Verde, quindi insomma mi pare che uno sforzo ci sia. Allora è uno sforzo a mio avviso minimo se pensiamo che invece dei 16 miliardi che si perderanno nel PNRR, 6 miliardi erano destinati proprio alle periferie e se le leggi di bilancio sono stati tagliati alla scuola e quindi anche al numero di insegnanti al tempo pieno 4 miliardi. Quindi sono dei piccoli segnali, dottor Vespa. No, però io riferendomi agli insegnanti, a quell'esempio di cui faceva, no, quando c'è un voto, in questo caso il voto della presenza dello Stato, quel voto a mio avviso o viene riempito da eroi che sono i sacerdoti, che sono gli insegnanti. Io ieri proprio ho pubblicato nel primo giorno di scuola la foto di quella preside di Palermo che va casa per casa a chiamare i ragazzi che non vanno a scuola. Quindi il voto o si riempie con gli eroi o si riempie con gli esempi negativi, con la malavita che lì lo Stato lo sostituisce. Allora, la storia del pacco alimentare non è nemmeno una novità. C'è una vecchia tradizione mafiosa per la quale si assiste la famiglia in difficoltà e questo infatti è stato. I ringraziamenti alla mafia nei decenni sono sprecati perché appena la famiglia è in difficoltà uno se la compra dando assistenza e cosa chiede in cambio poi? Chiede nel caso minore l'omertà, molto più spesso invece chiede un aiuto di entrare nella famiglia, di entrare nel giro della criminalità organizzata. Lei dove è nata? Io sono nata a Giuliano. Io tre giorni fa, credo fosse tre giorni fa, ho assistito all'ennesima rapina con pistola ed ero in auto con i miei figli, questo proprio per dirle quanto ci si abitua a questa... che non è normalità come se fosse normalità. Però mi pare che lei sia venuta fuori molto bene. Io sono venuta fuori bene perché ho avuto dei genitori che pur essendo umili, mio papà era un meccanico, mi hanno sempre detto che dovevo concentrare tutte le mie energie sullo studio, ho usato lo studio come ascensore sociale, andavo, frequentavo la parrocchia ma quello era l'unico luogo di aggregazione. E allora io dico, se noi oggi non capiamo che oltre a reprimere, è importante come dicevano anche i sacerdoti che sono qui, che fanno parte di quegli eroi che fortunatamente sostituiscono lo Stato quando lo Stato non c'è, se noi non capiamo che prevenzione significa investire sempre di più sulla scuola, che rieducare vuol dire dare delle opportunità di costruire un futuro a questi giovani, noi non andiamo da nessuna parte perché quando ho incontrato l'ultima cosa, quando ho incontrato qualche settimana fa la direttrice di un carcere della periferia di Napoli, lei mi ha detto proprio questo, tutti i giovani che io qui, la maggior parte di quei giovani sono qui perché non hanno visto altra opportunità e infatti in quel carcere, che è il carcere di Secondigliano, è nato il più grande polo universitario carcerario dove i professori universitari dell'Università di Napoli vanno gratuitamente a fare lezioni e quest'autunno si sono laureati i primi carcerati in giudisprudenza credo fosse, hanno addirittura portato i ragazzi alla laurea, fanno corsi di reinserimento nel mondo del lavoro. Don Burgio, vecchio problema nostro. Posso aggiungere un dato sulla scuola se è possibile. Parlavamo prima di questo abbandono scolastico, carenza di formazione, c'è una bella inchiesta di Svimez che si chiama furto di formazione che dimostra come un bambino nato al sud rispetto a un bambino nato al nord frequenta ogni anno scuola primaria 200 ore in meno, alla fine del ciclo primario di scuola quel bambino ha frequentato un anno di scuola in meno, quindi qui sta avvenendo un altro furto di formazione che avviene ad opera proprio delle istituzioni e dello Stato che non è in grado di garantire il tempo pieno in tutto il territorio nazionale. E io, dottor Vespa, ho paura che dopo il taglio dei 4 miliardi in legge di bilancio, dopo il taglio dei 6 miliardi al PNRR dedicati anche alle periferie, il progetto di autonomia differenziata che in questo momento noi stiamo discutendo in Parlamento non farà che accentuare questi divari, perché va a cristallizzare una situazione che già oggi è così diversa. Esatto, questi temi meritano una tradizione a parte, ce li siamo occupati e torneremo ad occuparci. Scusa, allora intanto io non mi focalizzerai su questo o quell'amministrazione, il problema qui è che le persone vivono da sempre sentendo che lo Stato non c'è, quindi sviluppano quel malessere che poi alla base anche di tutti questi servizi che abbiamo visto sono tutti nati in zone degradate, in cui quella rabbia, quel sentirsi abbandonati poi sfocia nell'uso di droghe, sfocia nella violenza, sfocia in un malessere che in qualche modo va incanalato. Però io invece credo che si possa venire fuori e credo che ci siano tanti esempi belli di rinascita, tanti semi che però noi come politica, come istituzioni dobbiamo essere bravi a cogliere, che vengono dalle parrocchie, che vengono dal volontariato, che vengono dai giovani. Io incontro tantissimi giovani del mio collegio che raccoglie proprio quella periferia degradata, che mettono su dei progetti che hanno bisogno di essere finanziati, appoggiati e se noi abbiamo quei fondi di cui parlava anche il commissario del PNRR, noi quei soldi li abbiamo avuti secondo dei parametri che erano anche dei parametri alterati al sud e parlo del tasso di disoccupazione e del PIL pro capite. Quindi tutte quelle risorse che finalmente stanno arrivando per riconvertire quelle periferie, per ridare opportunità lavorative ai giovani che al sud hanno una bassa scolarizzazione. Abbiamo in Campania il 34% di nitti, in Italia il 25%, cioè più di un milione e mezzo di giovani che non studia e che non lavora. Quindi o puntiamo a quello, o puntiamo a quello, oppure la speranza che cambia è complicata.